Il breve video promozionale realizzato per la candidatura della città di Pescina a Capitale Italiana della Cultura fa riferimento alle preziose risorse materiali e immateriali presenti sul nostro territorio e che rimandano all'apertura di meravigliosi itinerari religiosi, paesaggistici e culturali permeati di storia e tradizione passata, presente e futura. Il video inoltre è improntato ad un'intenzionale valenza emozionale generata dal sotteso fenomeno dello spopolamento fra la nostalgia e la speranza del ritorno riposta delle nuove generazioni capaci di intravedere proprio nella cultura il potente strumento per la rinascita di questi fragili territori.